Il premio Renz in visita a Lecce Ha criticato questa scelta dopo aver sentito il nostro editoriale perché affermavano che poteva serenamente porgli le domande sulle criticità del Paese, della Puglia e del Salento invece di rifiutare in modo provinciale la intervista forse per un protagonismo che voleva assumere il direttore dell'emittente di Telerama. No, allora chiariamo. Innanzitutto io non mi sono rifiutato di confrontarmi con Renzi. È lui che ha concesso attraverso il suo staff circa 3-4 minuti e in 3-4 minuti si possono raccontare al massimo due barzellette. E di barzellette questo Paese ne conosce ormai tante e tante raccontate nel corso degli anni. Per cui parte da oggi la mia modesta sfida di intervistare il premio Renzi a Parazzochigi con domande libere non preconfezionate, in diretta streaming e in diretta su tutte le emittenti locali libere come questa, come Telerama. La libertà del giornalista, di un direttore di testata e di televisione scaturisce dalla libertà di un editore di condividere il modo di fare informazione. Sono sorpreso perché il video del premio Renzi a Lecce ha avuto 70.000 visualizzazioni e un po' di condivisioni. Nel paradosso il video, l'editoriale, il nostro editoriale, quello di venerdì del sottoscritto, ha avuto circa 200.000 visualizzazioni e circa 10.000 condivisioni. Numeri pazzeschi che ci fanno comprendere la rabbia dei cittadini o la volontà e la voglia dei cittadini di sentir parlare liberamente qualcuno, senza necessariamente temere del e per il proprio posto di lavoro. Ricorderete che ho fatto una critica aspra rispetto anche alla militarizzazione della città di Lecce in occasione di quella visita e qualcuno tentava di dire ma come, si sorprende, è sempre stato così. No, non è mai stato così. La sicurezza è una cosa, il blocco totale della libertà di movimento è un'altra. Anzi, devo dire che siamo stati anche fortunati qui nel Salento perché a conferma di quanto ho esposto e di quanto ho ricordato in questo momento, momento, bene Catania, 48 ore dopo, non solo ha subito la stessa militarizzazione, non solo ha determinato qualche danno a Pacifico manifestante, anzi a tanti manifestanti che erano presenti appunto nel capoluogo Siculo, ma in più per la prima volta, credo, nella storia della Presidenza del Consiglio, un Premier per la sua visita alla Festa dell'Unità ha fatto sospendere il campionato, il Catania non ha potuto disputare la propria partita di pallone, di campionato, attenzione, per cui credo che gli interrogativi e le preoccupazioni debbano essere tali e debbano permanere e tutti gli interrogativi dello scorso editoriale, ritorno a dire, sono pronto a rivolgerli senza limiti di tre minuti, ma qualche minuto in più me lo consenta, direbbe il suo amico predecessore, durante eventuale intervista che vorrà concedermi liberamente a Palazzo Chigi. Sì, perché se Renzi ha dato un calcio al Catania e non lo ha fatto giocare, probabilmente noi di calci ne vorremmo, anzi non li vorremmo dare, vorremmo dei politici veramente riformisti e non che del riformismo si facesse un semplice slogan cancellando momenti di democrazia. Questo non va bene, ringrazio quanti hanno voluto sostenere una battaglia che è solo il frutto di un rispetto di una professione, professione che se non rispetta la propria deontologia non rispetta il cittadino e quindi farebbe lo stesso errore di alcuni politicanti odierni. A domani. Grazie a tutti.